Ciao ragazzi, ben ritrovati, realiente di football qui a cercare di creare il calcio interstellare per voi Esordio in prima divisione che abbiamo fatto sul velluto, avversario non all'altezza Si vedeva che aveva cominciato a giocare da poco, con qualche ancora tassello mancante nella sua formazione titolare Rotondo il risultato, belle azioni, bei gol Abbiamo preso un gol in realtà abbastanza strano, vabbè, magari lo avrete visto Giulio Cesare che si è fatto passare il pallone attraverso letteralmente Ma tant'è, prima di fiondarci, sull'avversario di oggi ragazzi, come al solito vi invito a lasciare un mi piace Iscrivetevi al canale se vi piacciono questi contenuti perché mi aiuta a portarne sempre di più Vediamo chi è l'avversario di quest'oggi Eccolo qui, verifica stato connessione Matchmaking, vi ho detto benevolo per la prima L'avversario era di nona se non sbaglio Quindi, diciamo, preannunciava una partita semplice Vediamo oggi se becchiamo uno di prima, come dovrebbe essere visto che siamo in prima E di quinta invece Juve Gioia Ah, quindi di sicuro c'è motivazione in questo caso per cercare di battere la Juventus Vediamo se gioca con la Juventus originale Ne dubito fortemente Infatti vedo Messi come uomo spogliatoio Direi sicuramente che non gioca con la Juve originale Noi abbiamo un Lautaro, informissima, ci fa piacere vederlo Turam, informissima, non vedevo l'ora di giocarlo C'è Sanchez che continua, continua a poter giocare Non mi è piaciuto molto come trequartista, dico la verità, ce lo rimetto comunque Quadrato anche informissima E ci piace, ci piace e come Sommer, meglio di Giulio Cesar Anche perché dopo quello che ha fatto, dopo l'ultima prestazione Forse una chance a Sommer gliela diamo Vediamo il nostro avversario, la Juventus Con, noi li importa Skriniar Van Dijk come difensore centrale 4-5-1 CLS, CLT, Bappé, Chiesa Ci sta, Chiesa, la Juventino Deve giocarlo Andiamo a mettere le marcature su, le marcature su Mbappé e Chiesa E siamo pronti a cominciare Sia Mbappé che Lautaro In una, in una forma smagliante Condizione ottima Freccia verde in alto Ci fa capire che sono più che pronti Per questa partita E si parte E la Juventus a partire Bravo, qui recupero l'intre Per partire con Turam che appoggia Da Sanchez Che si infila Si fa vedere anche Lautaro Poi a cercare Turam Ma segue benissimo Alexander-Arnold Che bella diagonale difensiva La Juve che prova a ripartire Quadrato che prova ad andare all'anticipo Non ci riesce Palla che va da Oland Che serve De Bruyne La palla allargata per Chiesa Con Di Marco Che fa un buon Una buona diagonale anche lui Palla per De Vrij Poi tutto chiuso Tre che riparte con calma La Juve che è ben schierata Come vedete Perché non ci sono spazi Visto che gioca col 4-5-1 C'è l'Est e c'è l'Edi Praticamente a schermare anche le uscite Allora De Vrij va a lancio lungo A cercare Turam Che appoggia A Barella Molto bene Autaro per Sanchez Spazio intanto Sulla destra Per Quadrato Molto bene Guadagna il fondo La mette al centro Sta arrivando Turam L'anticipo però Poi Sensi per Sanchez Di nuovo per Quadrato Che guadagna il fondo Di nuovo il cross al centro E Quei Skriniar Quasi fa venire la paura dell'autocall Ma fa bene Perché alla fine Anticipa Il Il francese Turam Pallati di Marco Dal calcio D'angolo a cercare bastone Vediamo se funziona una tattica La mette al centro Per Lautaro Che non riesce a calciare Peccato Di nuovo indietro Di Marco Spazio sul sinistro Il tiro però esce Fiacco In realtà poi Molto molto alto Buona occasione Qui per lì Interda questo calcio D'angolo Non è riuscito A centrare la porta Di Marco Il lancio in avanti Cioè Oland che sovrasta Il povero Barella La storia che gioca Comunque ha decisamente Ragionato Come vedete anche lui qui Ma Cadrado Ferma Bappé Senza troppi problemi Non passa la palla Di Lautaro Però Sanchez Recupera Sarebbe di nuovo Lautaro Qui anticipa Molto bene Il nostro avversario La palla per Alexander Naldo Sulla destra Si si è allargato De Bruyne qui Di prima In qualche modo Non senza qualche difficoltà Ne esce Poi questa Triangolazione Meravigliosa Poi a lanciare Lautaro Che prova ad uscire Non ci credo Ragazzi Gli è andata veramente Di lusso in questo caso Che bella Triangolazione ad uscire L'Inter ancora Che pressa con Barella Che va a cercare Di nuovo Quadrato Fermato Nuno Mendes Non riesce Ad evitare la remessa laterale L'Inter che resta In proiezione offensiva Ovviamente Questa remessa laterale È abbastanza brutta Però recupera l'Inter Bravissimo Lautaro Prima nel Cambio di rezzine Ma non poi Nella Nell'appoggio Purtroppo Mi serve L'aiuto di Di Marco È un po' in ritardo Su Chiesa Arriva il cross al centro Attenzione a Holland Non ho capito Cosa è successo So solo che L'ha presa malissimo Bastoni Stava per diventare Un autogol Praticamente Quadrato A fermare Mbappé In continuazione Praticamente Mamma mia Che triangolazione Perfetta A lanciare Lautaro Da solo Davanti al portiere Lautaro La mette al centro Sta arrivando Incredibilmente Che anticipo Che ha fatto Credo Alexander Arnold La Juventus Che si salva Per un pelo Ma che azione Ne era uscita L'Inter In maniera magistrale Andiamo con Sensi Dalla bandierina Cercare sempre Bastoni Col calcio d'angolo Bastoni contro Ciò a meni La mette al centro C'è Lautaro E c'è il gol La tattica Dzeko che funziona È Bastoni Che fa da sponda Lautaro Rapace d'aria Tira di prima In fila Nulla da fare per il portiere È 1-0 Meritato Dopo il salvataggio Miracoloso di Alexander Arnold Meritavamo il gol Con quella bellissima azione Che abbiamo fatto prima Poi Sanchez Recupera Può andare l'Inter Attenzione Lautaro Che va di nuovo Da Turam Esce Neuer Sta giocando Veramente come portiere Fuori dai pali Praticamente Buona la combinazione Libera di Marco Il cross al centro Ma Neuer Veramente È sempre fuori dai pali Uscito Benissimo Il portiere Tedesco Un po' di confusione Qui Ma la palla alla fine È per la Juventus Con Bappé Che può andare Ma Pavarra Fa una grande copertura Serve Lautaro Che salta L'avversario Guadagna il fondo Il cross al centro C'è Sanchez Che prova a calciare Non riesce per un pelo Barella La ruba Rischio La mette al centro Per il nigno Di nuovo Erroraccio Qui della difesa Barella Che recupera Quel pallone Un pallone Veramente sanguinoso La rimette al centro Per il nigno Che deve solo appoggiare Ed è 2 a 0 Il Turam L'anticipo Molto bene Ancora per Turam Che può scendere Palla al piede Sulla destra Se ne va in velocità Marcos Turam Appoggia centralmente Per Sanchez Che arriva con Un pizzico di ritardo Non poteva darla diversamente Quella palla Turam purtroppo Palla per Roland Cercare sempre Mbappé Diciamo se si concretizzano 1-2 No perché Quadrato è attento Poi Sommer Con i piedi Buona linea Di passaggi Dell'Inter Intanto Mamma mia Con Quadrato Che si accentra Prova il gol Dell'ex Sul palo Quadrato Si è infilato Fin quasi all'aria piccola Che azione dei Nerazzurri Ancora una volta Veramente Calcio spumeggiante Un'azione avvolgente Partita fino E qui Sanchez Per poco Non ci arriva Nel pressing Alexander Prova ad allargarsi Qui la Juventus Con Chiesa L'errore Con Sensi Che recupera Serve Barella Vada Sanchez Ancora Turam Di nuovo Per Turam Che prova Ad arrivarci Ci arriva Calcia col destro E fa anche gol Al quarantasettesimo Ancora un'azione Magistrale Dell'Inter Che qui Continua a orchestrare A tessere E fila In questo caso Bellissima L'azione Dell'Inter Sul finire Del primo tempo È 3 a 0 La Juventus Che non ha mai Tirato in porta Questo Ve la dice lunga Sull'andamento Della partita L'Inter Che sta costruendo E creando Un calcio Veramente bellissimo Ancora Sanchez E vede lo scatto Di Lautaro Prova a servirlo Ma Alexander Ancora fa una grande Diagonale difensiva Perché Alexander Ancora fa una grande Penso sia il migliore della Juve Turam A cercare Lautaro Il passaggio preciso C'è l'anticipo Del difensore Vi parlo di bastoni Ma La verità Non avevo neanche premuto Il tasto Per fare il contrasto Quindi So da dove è uscito Questo contrasto automatico Fallo su Holland C'è Messi addirittura Che forse potrebbe Pensare al tiro Effettivamente ci prova Ma la palla sbatte Sulla barriera Il Nuno Mendes C'era il cross al centro Qui per Holland Che controlla E preferisce Passarla al centro Scelta non Forse Non delle migliori Qui brutto Rorre di Sensi In uscita Mezzo a due Palla che resta lì Sommer ci arriva Si è un po' Lento Sommer qui A capire Da farsi Palla al terra E si riparte Con il passaggio per Di Marco Sensi Sanchez E poi Di Marco Ancora Cercare di nuovo Duram Peccato Un passaggio Era sbagliato Ciò a meni Con quadrato Che anticipa Parte palla al piede C'è Lautaro Che serve Duram Di nuovo Per quadrato Qui Un po' Rischioso E la scivolata E la scivolata Addirittura la palla E anche della Juventus Con Alexander Arnold Che si conferma Veramente il migliore Facendo una prestazione Spaventosa Salvando Forse più di un gol Per l'Inter Pavard In chiusura Perfetta Poi l'Inter Riparte con Sanchez Che prova a servire Duram Che di forza Se ne va La mette al centro Per Lautaro Ma c'è Skriniar In chiusura Bellissimo Quest'1-2 Quadrato Il cross al centro Troppo però Su Neuer Peccato Perché L'azione è ancora Una volta Il fraseggio E' stato Veramente bellissimo Prova a imbastire Un'azione Ragionata Il cross poi Al centro Tutto lungo Sensi Si ritrova il pallone Può andare Turam Tacco per Lautaro L'1-2 Che si concretizza Ma Lautaro E' stato falciato Da Van Dijk Qui Giallo minimo Ma c'è addirittura Il rosso A mio avviso Giusto Perché E' andato Proprio lì Senza pensarci Palla Già andata via Da parecchio Ritardo In completo Ritardo In questo caso Al resto Della gara In 10 Per la Juventus Ma in realtà Non c'è un resto Della gara Partita Dominata Azioni Da calcio Champagne Veramente Azioni Su azioni Spettacolari Seconda vittoria Di fila In prima Di fila In prima divisione Ragazzi Che partita Complimenti comunque All'avversario Ma Qui Non c'è stata Storia Ragazzi E' tutto Per l'episodio Di oggi Io come al solito Vi ringrazio Per aver guardato E ci vediamo Alla prossima